Buongiorno a tutti, bentrovati, le mosche erano diventate troppo insostenibili, quindi torniamo con la nostra routine consueta giornaliera Maglia pitonata, il vecchio trap che ci rammenta sempre di non dire il gatto se non ce l'hai ne scalco Lo stemmone, maglia dell'Italia campione d'Europa, maglia dell'Inter che ha vinto lo scudetto e direi che ci siamo per questo campionato che ricomincia Ormai antivigilia, solo due allenamenti per Simone Inzaghi per decidere la formazione Buone notizie, finalmente, anche perché sui social era già diventato qualcosa di insostenibile per Stefano Sensi Che si è allenato con il gruppo, come aveva rassicurato tutti sui social, sarebbe pronto anche per giocare al primo minuto Domenica Marassi, voci di corridoio parlano anche di un litigio con Mancini Non confermate, proveremo a capire, ma mi sembra soprattutto che la cosa più importante sia che Simone Inzaghi possa rischierare Rischierare Stefano Sensi come la prima di campionato in quel di Marassi dove segnò il suo ultimo gol in maglia nerazzurra ormai tanto tanto tempo fa Quindi bisogna cambiare passo e andare anche veloci perché c'è la possibilità di approfittare di un calendario che vede Milan-Lazio e Napoli-Juventus Con la possibilità di sfruttare questi scontri diretti Prima però c'è la Samp con un ciccio caputo che ha scelto la maglia numero 10 Molto importante proprio di quel Roby Mancio E poi bisogna anche pensare al Real Madrid con le problematiche da nazionali sudamericani Nella notte gran vittoria dell'Argentina con tripletta di Messi Lautaro non ha segnato questa volta, ha lasciato il palcoscenico alla pulce Che ha superato Pelé e che è diventato il miglior scorer del Sud America Con questa tripletta si è anche emozionato, lacrime a fine partita Per questo traguardo molto importante In campo per 70 minuti circa Lautaro, Correa è entrato nella ripresa come suo solito al minuto 62 28 minuti in campo Quindi un impegno diciamo sostenibile E per questo io comunque lo tengo sempre tra le possibili alternative Che si terrà Simone Inzaghi che domani potrà fare un unico allenamento a ranghi completi Neanche totale perché sembra che Vessino riesca a rientrare solo domani E quindi tè caldo come nelle migliori occasioni Il tè caldo più famoso di Youtube dicevamo di Vessino Che rientrerà solo domani e forse neanche in tempo per allenarsi con i compagni Che poi partiranno alla volta di Genova E potrebbe anche saltare la sua convocazione Assurdità di questa pausa per le nazionali Almeno che si rispettino i campionati Cercando di anticipare un attimo prima le partite Vidal invece insieme agli argentini alla cola La bevanda che anche in Sud America si sta diffondendo piano piano Arriveranno in serata test anti-Covid e quant'altro Nonostante comunque siano già vaccinati i giocatori E poi domani l'allenamento di rifinitura Quindi una sola unica seduta per verificare le condizioni Chiaramente parliamo di giocatori ultra allenati Che poi non hanno neanche giocato Soprattutto gli argentini hanno saltato anche la gara col Brasile E l'autore Correa non hanno giocato neanche 90 minuti Da capire la stanchezza e come alternarli Anche in previsione della super sfida con il Real Madrid Si vuole iniziare col passo giusto Nel migliore dei modi anche in Champions Lì sono convinto che in Zaghi Nonostante il turnover ve lo dicevo nei giorni scorsi Comunque non possa far a meno dell'esperienza internazionale di Edin Dzeko E anche della sua fisicità Del suo far gioco per i compagni Quindi io vado per un Dzeko Lautaro A meno che non ci siano altre indicazioni Poi lo vedremo Intanto Dzeko Sensi Probabile anche se secondo me Correa Ha buone anche possibilità anche lui di giocare Nonostante arriverà in extremis Tutte decisioni che Simone Inzaghi Simone il Bello Dovrà fare in queste due giornate Per provare a dare un seguito alle prime due vittorie Si ricomincia Finalmente si alza anche l'asticella Con quella Champions Che è quanto mai l'obiettivo Bella intervista su tutto sport Di Samir Andanovic Il capitano Poi la andiamo a leggere nello spazio Diciamo rassegna stampa Però un Inzaghi che ha sempre dimostrato Di ripartire al massimo dopo le soste Sarebbe molto importante Per dare ancora più entusiasmo a tutto l'ambiente E anche mettere pressioni ulteriori agli avversari E vedremo se dal gruppone inizierà a sfilarsi qualcuno Con poi questa designazione orsato Che credo che alla fine non porti problematiche Speriamo perché abbiamo già dato in passato E dopo 1232 giorni Torna a dirigere il direttore di Schio l'Inter Con la speranza appunto Che non ci siano né da un lato né dall'altro Errori arbitrali Come quello principe della mancata escursione di Pjanic Che consegnò lo scudetto alla Juventus Ai danni del Napoli Direi questa la situazione per un Inter Che guarda anche al futuro Più che mai in prima pagina sulla Gazzetta Raspadori Un talento che non bisogna farsi sfuggire E poi c'è l'operazione Onana Che sembra sempre più vicina A una conclusione nerazzurra Anche se come vi dicevo nei giorni scorsi Io anticiperei Ditemi come l'ha pensata A gennaio il suo arrivo Proprio per cominciare l'ambientamento Insieme ad Andanovic E poi vi chiedo Visto che il suo contratto Quello di Samira è in scadenza Voi cosa fareste? Lo rinnovereste come secondo Barra garanzia Al fianco di Onana O lo lascereste andare verso altri Lidi Verso altre Squadre Bel dilemma Io Aspetterei comunque di vedere Ha parlato anche degli errori Come quello di Verona Samira Secondo me Sarà decisivo anche in questa Stagione Come ha detto a tutto sport Se poi si vince Chi se ne frega Andare avanti E cercare di fare Il meglio possibile Così come facciamo noi Adesso spazio un po' Di vostri messaggi Intanto ci arrivano conferme Che Insomma C'è stato un confronto Abbastanza acceso Tra Sensi e Mancini Ma perché Ha avuto veramente Poco spazio Nelle ultime Occasioni Nonostante appunto Le condizioni Un po' così così E quindi potrebbe anche Finire la sua esperienza In azzurro Vedremo Nei prossime Convocazioni Se ci saranno Dei Seguiti O se Sarà Stato tutto risolto Come speriamo Visso il talento Che rappresenta Sensi E che speriamo Possa di nuovo Esplodere Senza più problematiche A livello fisico E anche un po' Psicologico Che ne hanno condizionato Il rendimento Nell'ultimo Nell'ultimo anno e mezzo Diciamo così Era andato bene Alla Prima partita Con il Genoa Adesso dovrebbe essere Lui al fianco Di Dzeko A Marassi Con Centrocampo tipo Barella Brozzo Cialanoglu A sinistra Potrebbe debuttare Da titolare Di Marco Facendo Rifiatare In vista Champions Perzic A destra Dovrebbe esserci Sempre quel Darmian Che è rimasto Da piano Quindi più che mai Pronto Con magari un po' Più di spazio Nel secondo tempo Per Dunfris Poi Difesa tipo Con Skriniar De Vrij Bastoni Davanti ad Andanovic Anche se C'è una possibilità D'Ambrosio Per far rifiatare Magari Il più stanco Dei tre E tenerlo fresco Per la gara Con Real Madrid A proposito Auguri al Danilone Che ieri ha compiuto Gli anni Sempre prezioso Sempre Professionista E siamo stati molto contenti Quando è stato rinnovato Il suo contratto Adesso un po' Di vostri messaggi Prima di andare in edicola Andiamo a leggere Un po' Delle vostre Considerazioni Ringrazio tutti quelli Che Si sono schierati Al mio fianco Per L'educazione Che chiediamo Indispensabile Nella nostra Chat Rispetto di tutti Con tutti Non solo ai miei confronti Ma Tra di voi È quello che Non può mancare Arianna Buongiorno Sono d'accordo con te Da rifiducia a Satriano Domenica Potrebbe essere anche questa Una Possibilità Con recupero di sensi Credo un po' Meno possibile Però vediamo Mosche Juventine Top Marco Sei il non plus ultra Grazie a Mondo Inter Grazie Marco Cassandra Come sempre Per le preziosi notizie E commenti informati Orsato Deve solo fare il suo lavoro Con serenità A fidarsi a salvarne I casi dubbi Marco Nera Azzurro Bella location Nonostante le mosche Bianconere Che abbiamo Adesso Superato Raspadori Assolutamente Da prendere Speriamo in sensi Altrimenti io dicembre Proverei a pressarla Qualche squadra Ad ogni modo Se non fosse al 100% Rischierei Satriano Buongiorno Marco Dobbiamo fare Quello che siamo capaci Giocare e vincere Forza Inter Sempre Francesco Margiore Leopoldo Grandinetti Sensi È troppo fragile È troppo fragile Però adesso Calmi Non ha niente Giocherà Forse anche È stato principalmente Un confronto acceso Con Mancini A causare Il suo rientro Anticipato In quel di Appiano Gentile Franco Saggioro Grazie Lavorando negli allenamenti Sensi Farà una grande stagione Grazie Davide Anche per il tuo ottimismo Lollo Rispoli Anche se sono passati Tre anni Non è corretto Che sia lui Ad arbitrare la gara In tanti La pensano così Io avrei Evitato Semplicemente Per non rischiare Altre polemiche Essendo l'ultimo anno Di direzione Di gara Poi Farà Anche Forse Il Designatore Domenica Si riparte Marco E noi pendiamo Dalle tue labbra Marco Scrive così Gabri Meleudinoz Non vedo l'ora Di vedere la nostra Inter domenica Pronta a sostenere I nostri colori Raspadori Cuore nero azzurro È da prendere E lo vedo bene Buongiorno Marco Dico solo che Raspadori Non bisogna farcelo scappare Promette molto bene Lo dico anch'io Da tempo Potresti dare Gli ultimi risultati Di campionato Delle squadre Che andiamo ad affrontare In Champions Lo faremo Appena si riprende Chiaramente Condivido con te Il pensiero Sulla grandezza E maestosità Del nostro giacinto Ci scrive Giovanni Zaccaria Di sicuro il tuo modo di essere Non è da meno esagerato Non mi avvicino neanche lontanamente Alla grandezza Di Giacinto Che è sempre in tutti I nostri cuori Solo un grande Può descrivere Un mito Sei troppo esagerato Come ti ho scritto anche Nei commenti Comunque grazie per i complimenti D'accordo su tutto Adesso testa e gamba La Sampdoria Francisco Pilar Condivido tutto Decisione discutibile Ma noi siamo più forti di tutto E sono sicuro Che la portiamo a casa Farai giocare il giovane Uruguaggio Che secondo me Non ha nulla di invidiare A Raspadori Può crescere molto bene Quel Martin Satriano Riccardo Biggi 1232 giorni Senza arbitrare L'Inter Puzza Con tanto di inchiesta Delle Iene Se ogni arbitro Per un errore Venisse venuto Lontano dalla squadra Per tre anni In Serie A Non avremmo più arbitri I file audio Poi persi Casualmente Poi uno non deve Pensare male Maverick Causa lavoro Posso seguire il video Solo ora Ce l'ha scritto un'ora fa Non penso che Inzaghi rinuncerà Agli Argentini Almeno uno di loro Secondo me Sarà in campo È una possibilità Direi che ci Ci siamo Adesso Ultime notizie On page Di Sport Mediaset Come sempre Appuntamento Alle ore 13 Si torna A fare la differenza Su Italia 1 In questa Anti-vigilia Di una ripartenza Così importante Nuovo record Notte da leggenda Permessi Con una tripletta Con l'Argentina Supera anche Pelé Raspadori Accostato all'Inter Se dicessi Che non mi faceva piacere Puntini Puntini Ma c'è il momento Giusto Per ogni Ambizione Bugiardo Se dicessi Che non mi faceva piacere Perché Chiaramente Non nasconde La sua simpatia Per i colori Nero azzurri Un motivo In più Per accelerare Cercare di Portarlo A Milano Con Manchester City Che vuole Teo Hernandez Secondo il Sun È pronto a mettere sul piatto 50 milioni Per averlo Già a gennaio O almeno così Chiedono Dicono In Inghilterra Questo quanto Su Sport Mediaset Andiamo velocemente In edicola Prima pagina Della gazzetta Appunto Dedicata A Raspadori Dopo L'Espluai Nazionale Anche indicativo Che sia lui In copertina E non Moise Ken Le sue parole Le abbiamo appena lette Su Sport Mediaset Io Un po' Mancio Un po' Vialli Il ragazzo dei sogni Sono un falso 9 Per tecnica e fisica Un vero 9 Per altre caratteristiche Mai pensato Di lasciare il sassuolo Però poi Vi ho già letto La risposta Sull'Inter E Proprio sull'Inter Si parla Del caso Sensi Salta Mancini Gioca con Inter Inzaghi Sensi titolare Contro La Samp Andiamo all'interno Dopo L'intervista A Raspadori Si parla Di Juve Napoli Del ritorno Di Ibraimovic Con la Laz Che vuole stupire Anche a San Siro Cresce La febbre real San Siro Verso Il tutto Esaurito Il primo L'ultimo Pensate Fu nel derby Della rimonta Del 4-2 Poi il Covid E tutto quello Che è passato Che ci ha fatto male Ma che abbiamo Vissuto insieme Ci ha unito Ancora di più Da Bastoni A Lautaro Blindato il futuro Ora Barella Nel 2022 L'età media Crollerà Colpi Rinnovi E inzaghi Il cuore Inter È giovane Progetto Linea Verde Titola così La Gazzetta Ed in geco È la meravigliosa Eccezione Dell'Inter Di un progetto Deciso Dentro il quale Competitività Competitività I numeri Devono andare Obbligatoriamente D'accordo Quali numeri Montengaggio Ed età media Da abbassare Il primo risultato È stato centrato Con l'ultimo mercato Sul secondo Siamo al work in progress Lavori in corso Iniziati da portare a termine Al termine di questa stagione Brutta ripetizione L'Inter Sta prendendo Il Green Pass Dove Verde Sta per giovane età Anche questa Non è che ci piacciono Molto queste Similitudini La linea guida Della proprietà È chiara Riempire la squadra Di giocatori Con molti anni Di carriera Davanti Che permettano Scelte E non costringano Solo A obblighi Contrattuali Correa È l'esempio perfetto Pagare anche molto Un cartellino 30 milioni A patto che l'ingaggio Sia sostenibile L'età Un punto a favore Non interrogativo Geco è l'eccezione Dovuto alla contingenza Di mercato Malnetto del Bosnia Col cacciatore Pianziano Che i nerazzurri Hanno inserito Nell'organico Di Inzaghi È escluso Kordaz Cialanoglu Anni 27 Non ci può essere Testimonia Il migliore Del progetto Di Simone Inzaghi 45 anni È il tecnico Più giovane Tra quelli Delle sette Sorelle Poi i rinnovi Adesso si aspetta Quello di Brozovic E poi Si cercherà Anche nelle seconde linee Di ringiovanire L'età media Della Rosa Con Perisic Anche qui Chiedo a voi Cosa fareste Se gli proporreste Un rinnovo Magari Di una stagione O Uno più uno Vedremo Se ne discuterà Magari Dopo questi primi due mesi Poi anche Colorov D'Ambrosio Ranocchia L'idea è Svecchiare Sempre di più La Rosa Come è stato fatto Anche riportando A Milano Di Marco Chiamiamolo Oppure Cortocircuito Perché catalogarla Poi solo come Incomprensione Diventa difficile Da spiegare L'infortunio I nazionali Se fanno sensi Rischia di diventare Un caso Mercoledì Il centrocampista Dell'Inter Ha lasciato il ritiro Dell'Italia Per un fastidio Al polpaccio Accusato Durante l'allenamento Di rifinitura Dal conciliabolo Con lo staff medico Azzurro Emersa La volontà Di non rischiare Dunque Di saltare L'impegno Con la Lituania Senza Avertiva fastidio Non si sentiva Al cento per cento E dunque Sarebbe stato inutile Tenerlo ancora nel gruppo Senza poterlo schierare La sera stessa Fin qui Tutto semplice E chiaro Ma poi Nello stesso pomeriggio Di mercoledì Si è presentato La pinetina Si è regolarmente Allenato Con Simone Inzaghi La sera poi Il suo messaggio L'Inter tira Un sospiro di sollievo Tampona l'emergenza Offensiva Con i rientri In extremis L'autaro e Correa Sanchez è Rientrato in gruppo Ma Non è ancora in grado Di garantire Uno spezzone Di gara Ad alto livello Toccherà dunque Assensi Illuminare La fase offensiva Piazzandosi Alle spalle Di Dzeko Come in occasione Debutto in campionato Col Genoa Marassi Portaveni Casa Sampa Realizzato L'ultima rete con l'Inter Due anni fa Ma se inzaghi ride Non sarà Dallo stesso umore Roberto Mancini Che lo aveva aspettato E coccolato E tenuto sempre In grande considerazione Fino al KO Che gli ha costretto A saltare gli europei Proprio poco prima Nell'inizio Di quell'avventura Difficile capire Se la questione Avrà ripercussioni Sul futuro Il nazionale Ma è chiaro Che senso Dovrà Dimostrare qualcosa In più degli altri Nel prossimo mese In attesa De nuove convocazioni Intanto è pronto A riprendersi l'Inter E questo Il nostro augurio Per una stagione Finalmente Senza problemi Andiamo veloci Al Corriere dello Sport Anche qui Pagina Dedicata A Sensi Un giorno Che fa la differenza L'autore e Corriere Arrivano a Milano Solo oggi Il centrocampista Può affiancare Ancora Dzeko Il piccolo fastidio Che aveva accusato Martedì Nazionale Che ha spinto Mancina Non rischiarlo Con la Lituania Ieri era passato Stefano Sensi Sarà a disposizione Contro la Samp E forse avrà pure Una maglia da titolare Inzaghi Non ha ancora deciso Chi sarà il partner Di Dzeko Ma l'ex Sassuolo Spera di essere Al fianco del Bosniaco Come nel 4-0 Contro il Genoa Il tecnico di Piacenza Prima di prendere Una decisione Vuole valutare Con attenzione Martiniz e Correa Capire le loro condizioni Dopo il match Di ieri notte Quanta stanchezza L'hanno lasciato Nei muscoli Il lungo volo Da Sud America Il cambio diffuso orario Dovrà per forza Affidarsi alle sensazioni Dei due giocatori Perché come dati oggettivi Per valutare Avrà un solo allenamento Certo è una partita Che si pronuncia tosta Dal punto di vista Dei contatti Complici del calcio Che la Sampa Mette in pratica Poter schierare Accanto a G Con un attaccante Con la garra del toro Sarebbe importante Al tempo stesso però Prendersi il rischio Di utilizzarlo Dal primo Dopo dieci giorni Intensi oltreoceano Dovendo in più Fare i conti Con i test anti-covid È una decisione Non semplice Vedremo Caputo Nuove magie Per la Sampa Esordio di lusso Per l'attaccante Io e Quagliarella Fabio Un punto di riferimento Da lui Si può solo imparare E poi Si parla anche Di Andanovic Che ha un po' Questa maledizione Della seconda giornata Che spesso Non gli porta bene L'errore di Verona L'hanno ancora prima Quello Con rinvio sbagliato A Benevento Che permise Il gol di Caprari E poi Un'altra uscita Con Spalletti Vengono Tutte Derubricate Alla voce Errori Da seconda giornata Andanovic Vuole cancellare Verona L'ombra di Onana Si avvicina Prima della sosta Il brutto errore Al Bente Godi Serve una risposta Da capitano Alla soglia Dei 38 anni Il rendimento Nella stagione Indirizzerà Il suo futuro Il camerunese Potrà aver bisogno Di ritrovare Ritmo gara Samir La garanzia Appunto Il Corriere dello Sport Dice che non è ancora Stata presa Una decisione Sul futuro Il contratto scade E anche a voi La vostra Il vostro parere Se dagli Ancora fiducia Oppure No Concludiamo La nostra Rassegna di oggi Come sempre Con tutto sport Dicevamo In un'intervista esclusiva A Samir Andano E ce ne leggiamo Un paio di passaggi Vediamo Se la recuperiamo In tempo utile Qui ci sono sempre Un po' di Problemi Quando Cerchiamo Questa App Vediamo Se ci siamo Dovremmo Esserci Eccoci Qua Dai App Forse Non è solo Una coincidenza Vedrete che Juve Intervista A Cherubini E poi Quella A Dandanovic Guardate Che Inter Inzaghi Ha portato Grandi idee Possiamo vincere ancora Conte Va solo Ringraziato Mentalità E delle emozioni Forti Anche se Sono stati Due anni Molto impegnativi E qui Bisogna anche Capire Dietro a queste Dichiarazioni Cosa c'è Pallone d'oro A Giorginio Curioso di vedere Iuri Cialtoro Mi sento Un po' Il Bukowski Dei portieri Dico sempre Ciò che penso Le parole Di Andanovic Leggiamo ancora Qualcosa in più Ora ci guardano Da Inter Questa è una squadra Che Può e deve Continuare a vincere Perché siamo più completi Sono curioso di vedere Iuri Cialtoro Vediamo Se dice Qualcosa In merito Agli errori Che avevamo Detto prima L'eredità Di Conte Noi giocatori Dobbiamo soltanto Ringraziarlo Anche se sono stati Due anni Molto impegnativi Con lui Quello che mi ha colpito Di più È la mentalità Che ha portato Su questo Credo che abbiamo Fatto il passo Più grande In zaghi In zaghi Invece Di siamo ripartiti Col 3-5-2 Tante cose buone Sono rimaste Lui ci ha messo Le sue idee Spiegandoci In cosa Migliorare In cosa Poter far Bene Sugli errori Come vive L'errore Ci vuole un po' Per metabolizzare Sconfitte D'errore Ma tutto deve avvenire In maniera giusta Se sbagli Vuol dire che Sei vivo Ormai sono grande Ho 37 anni E non mi deve spiegare Più nessuno Quando ho sbagliato Perché so di averlo fatto Sotto la pelle Tutti abbiamo sangue Normale Meglio se dopo uno sbaglio Vinci A quel punto Te ne freghi Ha già iniziato A pensare a cosa fare dopo Voglio rimanere nel calcio E provare a far l'allenatore Poi su Onana E sul futuro Fa parte del gioco Sono cose che succedono Dappertutto e con tutti Poi è normale Mi sento ancora bene Mi diverto Vivo per il calcio Che è la mia passione Ora penso all'oggi Poi vedremo L'importante Che è l'Inter Raggiunga I suoi obiettivi E dunque Rispetto massimo Per il capitano Appuntamento Stasera in live Come sempre Intorno alle 22.30 Anticipiamo Visto che Ormai l'estate È finita E poi Ci prepariamo Alla vigilia Di domani E soprattutto Anche al ritorno Della Champions League Grande esclusiva Mediaset Infinity Mi raccomando Buona giornata Ancora a tutti Appuntamento Ore 13 Italia 1 Buona giornata